Nella cogiuntura attuale, i legami coniugali e familiari sono in molti modi messi alla prova. L'affermarsi di una cultura che esalta l'individualismo narcisista, una concessione della libertà sganciata della responsabilità per l'altro, la crescita dell'indifferenza verso il bene comune, gli imporsi di ideologie che aggrediscono direttamente il progetto familiare, come pure la crescita della povertà che minaccia il futuro di tante famiglie, sono altre tante ragioni di crisi per la famiglia contemporanea. È un discorso denso e vibrante quello che Papa Francesco ha rivolto alla comunità accademica del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, un'istituzione voluta espressamente da Papa Waitiwa per riflettere su questa delicatissima frontiera dell'umano. Nella famiglia, infatti, la Chiesa vede l'icona dell'alleanza di Dio con l'intera famiglia umana, un progetto che oggi richiede una speciale intelligenza d'amore e una forte dedizione evangelica, animata da grande compassione e misericordia per la vulnerabilità e la fallibilità dell'amore tra gli esseri umani. Dinanzi ai tentativi odierni, definiti sconcertanti, di cancellare le differenze tra uomo e donna, il Pontificio ha ribadito che le dinamiche del rapporto fra Dio, l'uomo e la donna e i loro figli sono la chiave d'oro per capire il mondo e la storia, e che oggi è necessario applicarsi con maggiore entusiasmo alla riabilitazione di questa straordinaria invenzione della creazione divina. E' giusto, ha concluso, riconoscere che a volte abbiamo presentato un ideale eteologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono.